Loredana Emili e Sergio Pezzuoli interrogano l'assessore all'urbanistica Paolo Canducci. Due dissidenti del PD chiedono se esistono o sono esistiti i rapporti tra l'assessore e la Troiani Cerrocchi, ditta che compare puntualmente nel caso dei contestati progetti delle pensiline fotovoltaiche e dei pannelli solari allo stadio. A rispondere al posto dell'assente Canducci il sindaco Gaspari. Ai nostri microfoni Loredana Emili. Il sindaco ha dichiarato che il quesito non era stato esposto in modo molto chiaro. A noi sembrava chiaro, c'era semplicemente da dire sulla base di voci che corrono da un po' di tempo e anche da una dichiarazione che mi è sembrata strana, cioè quella di Cerrocchi dove riportata dalla stampa diceva che l'assessore Canducci non aveva mai svolto attività di avvocato per la ditta Rojane Cerrocchi SRL. Sulla base di questo anche l'unicamento ha detto visto che la calunnia è un venticello e visto che questa amministrazione sia dal suo insediamento fino alla commissione di indagine parla troppo spesso di incompatibilità in opportunità mischiando anche i termini e le questioni politiche abbiamo chiesto questo nella nostra interrogazione. Il sindaco ha risposto in modo molto evasivo ed elusivo perché ha detto approfondito ma quello che viene fuori è che l'incompatibilità sarebbe esistita nelle misure in cui l'assessore avesse esercitato la professione di avvocato contro il comune di San Benedetto. Lei capisce che questa è abbastanza ridicola come risposta quantomeno. Come dire, è incompatibile nel momento in cui l'assessore fa l'avvocato contro il comune di San Benedetto dove è assessore e magari su atti proposti da lui. In realtà la legislazione, la giurisprudenza dice chiaramente che non c'è un divieto, un'incompatibilità nell'esercitare la libera professione nel comune dove si può ricoprire incarichi assessorili, in questo caso da parte dell'assessore Canducci, ma proprio per tutelarsi sui tre principi fondamentali della pubblica amministrazione, ovvero l'imparzialità, cioè non fare favoritismi, la trasparenza e l'economicità sono le grandi linee guida nella pubblica amministrazione e nel TUE. Noi chiedevamo, la giurisprudenza si tutela parlando appunto di obbligo di astenersi dal votare delibere nel momento in cui possa potenzialmente insorgere un conflitto tra gli interessi primari della pubblica amministrazione e quelli secondari del cliente che in questo caso sarebbe la ditta Troiani e Cerrocchi nei confronti dell'assessore Canducci. Ed è di martedì la rivelazione da parte degli stessi Emili e Pezzuoli di due atti depositati al Tribunale di Ascoli riguardanti la Troiani e Cerrocchi difesa e rappresentata dall'avvocato Paolo Canducci.